Ciao a tutti, sono Francesco Bonifazi, tesoriere del PD. So che nelle prossime ore Luigi Di Maio, mister congiuntivo, farà una conferenza stampa sulle dichiarazioni rese da un testimone occulto, cioè una persona che non ha avuto il coraggio neppure di mettersi la faccia, durante la trasmissione Report e sul Fatto Quotidiano. Innanzitutto voglio chiarire che darò seguito a quello che ho detto ieri, ovvero che chiederò i danni a Report, alla Rai e al Fatto Quotidiano e non credo che sarò il solo a farlo. Poi chiedo di mettere molta attenzione su quello che dirà Luigi Di Maio, mister congiuntivo, anche perché negli ultimi tempi mi sembra che stia sbagliando troppe cose. Innanzitutto basta pensare al caso Consip che sta prendendo una piega un po' diversa da quella che sembrava, a quello che è successo ieri a Genova, a quello che è successo al povero Stefano Graziano e a tutta quella miriade di indagati pentastellati, amministratori di comuni che vengono di volta in volta dimenticati. Ebbene, io capisco il nervosismo di Di Maio, mister congiuntivo, lo capisco bene, perché finalmente quello che vi avevamo promesso, cioè un esposto sui profili fiscali e soprattutto penali che riguardano il blog di Beppe Grillo, è pronto. e credo che nei prossimi giorni ne vedremo delle belle. Ciao a tutti e condividete.